Sei dagli inizi, che valore ha questa vittoria? È un gran valore perché riconfermarsi non è mai facile, abbiamo avuto un dicembre veramente pieno e con questo inizio subito dalla fine squadra di Coppa Italia siamo molto orgogliose della mia squadra perché sotto 2-0 ci siamo messe lì con calma, palla su palla e siamo uscite da una grossa difficoltà di squadra e niente, sono molto contenta. È la quarta Coppa Italia, un altro vetro al lavoro. Sì, sono molto contenta di aggiungere un altro trofeo, non è mai scontato e quindi sono felice. Ci fate caso che al palla verde in alto ci sono su tre lati le vittorie dal Sisley e dal Benetton ma adesso si sta riempiendo con i vostri standardi? Sì, abbiamo notato perché quest'anno hanno inserito i nostri standardi e quando guardo i studi ci cavolo tutti quelli li abbiamo vinti noi e niente, sono orgogliosa e questa squadra è favolosa e anche staff e società, tutti, tutto l'insieme di squadra. Sotto 2-0 è stato più mentale o più tecnica la vostra reazione? Penso abbiamo aggiustato qualcosa a livello tecnico perché nelle prime due set non abbiamo lavorato benissimo e come avevano studiato lo staff abbiamo aggiustato qualcosina, abbiamo sicuramente commesso qualche errore in meno e abbiamo lottato di più in difesa, toccato molto più a muro e siamo crescite dentro in questo fondamentale.